Torna a rivivere un altro angolo della città di Lodi, piantumata in senzi arbore a spina verde. Unedilodi aderisce per la prima volta alla giornata nazionale degli alberi che è stata istituita con legge nel 2013 e abbiamo organizzato questa bella iniziativa di piantumazione condivisa, aperta tutta la cittadinanza. Ci eravamo dati un duplice obiettivo, il primo era quello di aumentare il patrimonio arboreo della città con queste 70 piantine che ci sono state donate dal Parco Adda Sud nell'ambito del progetto Filari che rappresentano circa l'1% del patrimonio arboreo cittadino esistente e cosa altrettanto importante è quella di riconsegnare queste due aree alla città, aree che erano prive di una funzione, erano frutto di vecchie cessioni di trasformazioni urbanistiche che rappresentavano semplicemente un costo di manutenzione. Oggi restituiamo loro vite e le riconsegniamo alla città con questa iniziativa. Mi piacerebbe poi nel corso del tempo realizzare anche i percorsi e qualche attrezzatura in modo tale da renderle ancora più fruibili. Abbiamo collaborato col Comune di Lodi quest'anno, che abbiamo avuto la sua disponibilità, a mettere a dimora 70 alberi in questa zona magnifica della Spina Verde. È un'iniziativa importante per noi perché è la prima volta che il Comune di Lodi partecipa attraverso l'assessore Tarchini, ma soprattutto perché vogliamo lanciare più che lasciare un messaggio ai ragazzi ma anche ai genitori che l'ambiente bisogna mantenerlo, bisogna salvaguardarlo, bisogna incentivarlo anche, non solo mettendo alberi ma salvaguardando anche tutto questo bene che noi abbiamo perché sappiamo che vivere in un ambiente sano vuol dire alzare la qualità della vita e quindi dobbiamo darci da fare tutti per migliorare sempre di più.